Ieri la serentana ha definito la cessione di Legovski in prestito all'Iverdon Club della massima divisione elvetica. Il centrocampista polacco non rientrava nei piani di Martuscello, pur essendo l'unico incontrista presente in organico in un centrocampo che annovera al suo interno quasi esclusivamente elementi dalle spiccate attitudini alla costruzione o alla fase di inserimento in zona goal. In uscita la porta resta aperta, Valencia infatti potrebbe in extremis essere citato in Grecia, ma dovrà sciogliere le riserve in fretta. In Grecia il mercato chiuderà domani. Fino a venerdì sarà aperto quello turco e sabato chiuderà quello messicano. C'è stato ancora qualche timido approccio per Simi, ma il nigeriano non cambierà idea a settembre, dopo aver manifestato in tempi non sospetti la volontà di restare in Italia per questa stagione, pur essendo all'ultimo anno di contratto con la salerintana. Saltato è invece il trasferimento di Svait al Cluj, mentre il Friabonata spera nello sconto per Callon. Ieri è stato presentato il ricorso contro le quattro giornali di stop inflitte dal giurice sportivo all'esterno offensivo Granata, dopo l'espulsione di rimediata nel recupero del match vinto in casa contro la Sampdoria. Simile allo sconto di pena è dalla riduzione da 4 a 3 dei turni di squalifica, così da poter avere a disposizione l'ex Bari già in occasione della gara interna col Catanzaro. Dopo aver saltato la gara di Mantova, Callon sarà assente sicuramente sia col Pisa, sia per la trasferta di Reggio Emilia. La prima occasione utile per lui di tornare in campo sarà rappresentata dalla gara di Coppedale in programma il 25 settembre sul campo dell'Udinese. Qualora arrivasse lo sconto, Callon potrebbe tornare in campo anche in campionato per il match del 29 settembre all'Arichi col Catanzaro. In caso contrario dovrebbe attendere la successiva trasferta di Palermo.